Buonasera a tutti, cominciamo puntuali perché ci sono quattro presentazioni, abbiamo soltanto un'ora e mezza di tempo quindi io farò delle presentazioni brevissime per non perdere minuti preziosi. Allora la prima presentazione che poi è anche la prima e seconda da Ivan Graziani, Stefano Babbini e Chiara Saletti, i titoli sono caccia grossa all'errore, gli studenti mettono mano agli item invalsi di matematica e poi subito a seguire senza diciamo interruzione quindi magari poi le domande le facciamo dopo tutte e due le presentazioni. Pitagora e non solo questo è un problema. Direi che avendo due presentazioni possiamo dare tranquillamente 40 minuti ok per entrambe? Bene. Grazie, allora buonasera a tutti. Buonasera a tutti insieme con i colleghi Babbini a distanza e Graziani qui accanto a me vogliamo presentarvi questa riflessione sulla una caccia grossa all'errore. Noi siamo insegnanti afferenti ai tre ordini di scuola quindi lavoriamo in verticale e ormai la diversi anni insegniamo ma ci rendiamo conto di come nonostante passi il tempo l'errore il più delle volte venga vissuto in maniera negativa quindi viene percepito come un qualcosa di da imputare assolutamente allo studente e vuoi per distrazione vuoi per carenze a livello proprio di competenze e questo chiaramente venga vissuto anche dall'insegnante con un senso di frustrazione quindi come una sconfitta a livello personale ecco che appunto abbiamo in realtà pensato di dare all'importanza all'errore quindi vedere l'errore come un'opportunità non solo didattica quindi stare sull'errore vedere l'errore visto come un qualcosa di fisiologico nell'apprendimento del bambino e dello studente ha fatto sì che la nostra ricerca puntasse proprio su questo su questa motivazione qui quindi abbiamo preso in esame le difficoltà abbiamo somministrato una serie di item ai nostri studenti quindi partendo da una quarta primaria arrivando fino alla secondaria di secondo grado e somministrando questi item presi di grado 2 grado 5 grado 10 8 e 13 e li abbiamo fatti risolvere individualmente ai ragazzi successivamente c'è stata la condivisione dell'errore quindi sono stati corretti a livello di gruppo classe e sono stati chiaramente individuate le motivazioni riscontrate dagli studenti su determinati errori quindi perché venivano commessi certi errori successivamente abbiamo fatto loro la proposta di smontare e rimontare questi item partendo proprio dalla dalla loro dai loro errori per poi somministrarli cioè sottoporre nuovamente questi questi item modificati e quindi resi più semplici o più difficili a seconda appunto che ci si riferisse ad un grado inferiore o superiore abbiamo scelto come metodologia didattica quella laboratoriale perché a nostro avviso lavorare in questo modo fa sì che lo studente subisca diciamo meno determinate situazioni come appunto può essere quello dell'errore io andrei avanti benissimo ecco questo è il nostro il nostro campione i nostri piccoli super mario perché c'è da fare una piccola premessa inizialmente la nostra relazione aveva un titolo diverso cioè era super mario perché appunto proprio i ragazzi della secondaria di primo grado mettendo mano a questi a questi quesiti si sono sentiti un po come il super mario dei vecchi videogame e quindi come tali si sono appropriati del personaggio di super mario per la secondaria di primo grado hanno assegnato luigi che è il più alto alla secondaria di secondo grado e alla sottoscritta la principessa e quindi in questo modo il campione ha visto coinvolte questi questo numero di studenti io a questo punto andrei direttamente esatto allora partiamo subito con la questione questo item di grado 5 qui appunto la maestra per chi non lo ricorda ma è molto famoso la maestra chiede di rappresentare sulla retta dei numeri il numero tre mezzi solo una di queste rappresentazioni è corretta quale quindi questo qui è un quesito che ha avuto fra l'altro come campione come risultato di risposte corrette se non sbaglio soltanto un 17% quindi anche a livello di classe non è andato assolutamente bene questo infatti il protocollo che vedete è l'unico protocollo corretto che ci è ritornato e in questo caso la bambina in questione Teresa ha risposto argomentando perché era stato chiesto anche di argomentare per iscritto la situazione la strategia adottata dice ho risposto così perché sono tre mezzi quindi ho fatto un mezzo più un mezzo che mi fa un intero a cui ho aggiunto un altro mezzo e quindi un intero e mezzo e sono andata a colpo sicuro sulla linea sulla retta dei numeri cosa che invece non è successa per per tutti gli altri perché si può dire che indicativamente gli errori commessi sono stati di due di due tipologie rimettiamo però la slide di prima perché almeno abbiamo presente no prima prima ancora allora l'opzione a non è stata minimamente presa in considerazione dai ragazzi per chi ha scelto la b ha chiaramente associato alla frazione tre mezzi il numero 3,5 mentre chi ha scelto l'opzione di ha associato al tre mezzi il 3,2 quindi questi sono stati i due errori più gettonati c'è da dire che a livello di insegnanti nel momento in cui io sono andata a rilavorare con questa classe che non era appunto fra l'altro nemmeno del nostro comprensivo quindi scelta una classe con una serie di bambini stranieri certificazioni quindi una classe molto molto eterogenea tutto questo ci ha fatto un attimo capire che la difficoltà maggiore è stata quella di sistemare la frazione sulla retta cioè il numero espresso in frazione sulla retta e questo ci porta chiaramente ad una prima riflessione per cui soprattutto a partire alla scuola primaria lavorare sulla retta e via via che si affrontano numeri diversi è bene subito posizionarli e collocarli correttamente sulla retta. Se andiamo avanti vediamo in che modo loro hanno rielaborato questo quesito. La versione diciamo più facile l'hanno assegnata ad un grado 3 ma c'è stato detto maestra tranquillamente possono farlo anche bambini di seconda anche se la frazione viene affrontata in terza perché abbiamo scelto un mezzo e quindi un mezzo è una frazione estremamente facile tutti i bambini sanno che un mezzo di mela corrisponde a metà mela e chiaramente hanno dato come opzione come risposta corretta la prima opzione dando un ulteriore aiuto ai bambini dicendo è la prima risposta è quella corretta quindi in qualche modo possono anche pari a meno di ulteriormente andare avanti. Certo è che sia in un caso che nell'altro loro hanno fatto riferimento per le opzioni di risposta sono partiti dai loro errori e quindi la scelta di posizionare ad esempio un mezzo come sull'opzione B a metà fra l'1 e il 2 hanno fatto riferimento appunto al famoso 3,5 così come l'opzione se non sbaglio la C che è vicino al 3 in quel caso lì mentre nel caso precedente era il 3,2 quindi era subito dopo quei due pezzettini dicevano subito dopo il 3 in questo caso sono i due pezzettini che mancavano quindi c'è tutto questo contorcimento. La quarta opzione è stata in questo caso messa così a caso sulla difficoltà del grado 5 in questo caso loro hanno scelto la frazione 10,5 anche in questo caso le prime tre opzioni sono riprese dai loro errori hanno deciso di mettere come opzione cioè come risposta corretta di metterla proprio per ultima perché dice in questo modo i bambini sono costretti a ragionare quindi a prendere in considerazione tutte le opzioni e arrivare alla risposta corretta che poi altro distrattore è stato detto mettere la risposta corretta in fondo alla retta può sembrare strano e quindi anche quello veniva considerato una cosa estremamente difficile. Questo è un altro quesito riguarda le quantità su questo ci soffermiamo brevissimamente perché è stato un quesito che ha dato veramente tanti problemi nella misura in cui i bambini abbiamo scoperto ho scoperto che in quarta non avevano ancora affrontato per scelta metodologica dell'insegnante non avevano ancora affrontato le misure di capacità quindi se erano erano fermi al metro avevano appena approcciato i chiligrammi ma le misure di capacità sono state confinate alla quinta elementare e quindi in questo caso diciamo che gli errori principali sono stati quelli di fondamentalmente dire noi non avevamo capito che dovevamo mettere effettivamente il numero dei contenitori quindi loro che cosa hanno fatto? hanno fatto dice noi pensavamo di dover completare sia come numero di confezioni che come numero di ml e questo è stato un errore che hanno commesso così come è stato mal interpretato quella un mezzo di litro cioè mezzo litro scritto in quel modo mi sono sentita dire maestra ma quella linea di frazione per noi non era una linea di frazione ma quell'uno barra due voleva dire uno o due e anche su questo poi tant'è che nessuno voleva mettere mano a questo quesito per renderlo facile o per renderlo difficile e questo infatti è il prodotto cioè il facile è stato chiesto di fare una somma di quantità mentre sul difficile gli abbiamo fatto un problema un pochino più contorto e arzigogolato in maniera tale che fosse anche di difficile lettura sul righello invece avendo lavorato molto sulle misure di lunghezza diciamo che abbiamo avuto dei risultati incoraggianti nella misura in cui appunto nel primo caso vediamo come qui ci sono i due protocolli diciamo fatti fatti correttamente e sono due strategie diverse nel primo caso il bambino ha messo il righello ha utilizzato quindi correttamente strategicamente il righello ed è arrivato a dare la risposta corretta nel caso del secondo protocollo di una bambina la bambina ha detto dice ma io dice ho semplicemente visto che nella parte di sotto specularmente simmetri cioè c'erano i numeri e quindi chiaramente il 3 ecco che andando a lavorare sul grado 2 l'hanno reso un pochino più difficile facendo posizionando il segmento non all'estremità del reghello ma in posizione diciamo centrale e in questo caso mi sono sentita dire appunto i numeri sotto in questo caso non aiutano il bambino durante la discussione è venuto fuori un'altra bambina che ha detto sì però se il bambino osserva attentamente il righello si rende conto che al 12 sotto corrisponde il 10 e quindi può essere più semplice per lui fare da 10 a 13 piuttosto che fare da 9 a 12 e questo è stato mentre per quanto riguarda il problema di grado 5 loro hanno addirittura lavorato sulla parola perché ci scrivono Gino deve percorrere la metà di 3 chilometri segna la meta di Gino quindi loro hanno detto giochiamo anche sulla parola perché capire la metà della meta può essere una difficoltà a quel punto avendo restituito il problema sistemato ci siamo accorti che fra lo 0 e l'1 l'1 e il 2 e il 2 e il 3 ci sono 9 quadretti al che ho detto guardate bambini che la distanza e loro mi hanno detto dice sì certo dice perché è facile fare la metà di 10 quindi essendo in quinta loro devono dividere a metà il quadretto e poi sotto vabbè c'è quella domanda in più però Gino si ferma a prendere un caffè alla metà di un chilometro quant'è la metà di un chilometro e questo è così siamo alle medie noi eravamo in terza media e abbiamo somministrato abbiamo scelto proprio sia io che Stefano di somministrare un quesito del grado inferiore e anche uno del grado superiore per avere anche un metro del chiaramente non abbiamo scelto dei livelli alti del grado superiore quindi abbiamo scelto dei gradi che fossero comunque risolvibili dagli studenti senza fare i cattivi come ci ha detto prima Ricci per l'insegnante di matematica ecco qui abbiamo chiesto appunto di semplificarlo o complicarlo e è iniziato già nelle medie quello che poi è contenuto nei superiori e hanno sgamato il fatto che per semplificare un quesito si rende risposta multipla l'hanno capito anche loro quindi questa è una cosa positiva e quindi hanno scritto per complicare risposta multipla e hanno scelto 9 19,5 20 e 20,5 perché hanno scelto tre di quelle che gli erano venute fuori loro come proprio conteggi e hanno detto ci mettiamo anche 20,5 perché è più vicino di 19 siccome è venuto fuori 19 ci possiamo mettere anche quello e questo qui è per quanto riguarda il primo nel secondo invece c'era quel testo che era uscito sempre per il grado 8 quindi era il loro grado e la domanda era quella che chiedeva appunto di stabilire in base al racconto della duplicazione dei batteri non parla di batteri ma parla di cellule ma comunque sono batteri di vedere quali di quelle formule consentivano di stabilire all'ennesima divisione quanti potessero essere e qui loro hanno detto per semplificarlo rendere il testo meno lungo perché in effetti era una delle cose che gli ha scorreggiati un po' di più per complicarlo mettere la risposta secca senza fornire le quattro possibilità ma la risposta secca le ho detto guardate che è un po' difficile la risposta secca su questa domanda qui la risposta secca è proprio veramente cattiva più cattiva dell'insegnante di matematica mentre lì di fianco vedete come diverse metodologie risolutive hanno portato la risposta corretta perché in un caso sono stati visti proprio sostituendo i numeri nell'altro invece hanno fatto proprio hanno controllato tutte le possibilità per vedere quale andava bene poi ne abbiamo scelto un altro quello del numero di scarpa lunghezza del piede più 1,5 per tre mezzi che non era così difficile come domanda perché 26 più 26,5 più 1,5 fa un numero intero che poi è divisibile per 2 moltiplicato per 3 in teoria non doveva dare problemi infatti questo ha risposto bene che è risposto 42 io inizialmente non ho capito è scritto una L dico no quello lì è un 4 poi c'è un 2 va bene la calligrafia è un'opinione se multipla qui hanno messo corretta la prima 42 poi 39 38 21 motivando in diverso modo cioè sbagliando e quindi dividendo per 2 moltiplicando per 3 e così via invece di in quel caso dividendo per 3 moltiplicando per 2 che venivano valori minori questo è il terzo che abbiamo scelto ed è un grado 10 livello 5 che però secondo me potevano fare tranquillamente perché era un po' come quello del che abbiamo visto prima del mangiare per cani che quindi veniva siccome qui erano 60 dipendenti gli uomini sono 18 e hanno un'età di 42 anni le donne hanno un'età media di 36 anni in tutto sono 60 dipendenti qual è l'età media dei dipendenti dell'azienda e qui facendo proprio 42 più 36 diviso 2 viene 38 che sarebbe il numerino bellino ma sbagliato qui è inverso rispetto a prima perché qui bisogna proprio mettere la soluzione con il decimale qui c'è tutta la procedura per semplificare sempre risposta multipla quindi già la seconda volta o non fare il numero delle donne uguale all'età degli uomini quello ha detto che è una difficoltà perché se fai il numero delle donne perché facendo 60 meno 42 venivano che le donne erano 18 e quindi gli uomini avevano praticamente 42 anni ed era il numero anche delle donne e quindi dopo avevano due volte 42 quello era un po' era un po' cattivo e o facendo tornare un numero intero direttamente quello per facilitarlo complicarlo è difficile forse se il risultato a due decimali o più è chiedere una media intera e se multiplo poi mi hanno dato anche lì le quattro possibilità 37,8, 38, 23 e 78 sempre con le motivazioni di possibili errori questo qui mi ha fatto piacere prima di vederlo anche da Stefania perché l'hanno risolto correttamente e hanno detto più facile se le misure sono entrambi in centimetro in metri chiaramente perché la facilità è quella più facile se corrisposta a scelta multipla anche lì è andato 4 più difficile se le misure della stanza sono 4,4, 5,8 e beh qui sono andati sono andati anche un po' più sul cattivello sì perfetto allora nelle secondarie secondo grado e qui sostituisco nel migliore di modi spero il mio collega Stefano hanno fatto più facile chiaramente congiungendo quelle mettendo quelle tre distanze dai tre vertici quindi verso l'asse delle X e quindi venivano fuori delle figure forse più semplici oppure risposta multiple anche qui in questo caso hanno scelto sempre quello quest'altro anche era interessante perché dovevano trovare sostanzialmente il centro di un cerchio che passava per i punti PQR e in quel caso il cerchio provando anche a puntarlo col compasso hanno visto che stava lì e hanno detto può essere più facile anche qui se multipla però davano tutte le possibilità 1,0,0,0,1,1,0,1 chiaramente lo 0,1 se è corretto il distrattore più scelto sarà l'1,0 perché molto spesso confondono l'asse delle X con l'asse delle Y questa qui del grado 10 era lanciando un dado quante volte si poteva, cioè quale numero deve essere il settimo dado per avere una media del, no che media veniva se la media era 3 qual è stato l'esito dell'ultimo lancio l'ultimo lancio è 2 qui hanno detto è già facile per complicarlo si può chiedere come media il 4 oppure mettere le risposte multiple e anche qui lo complicherebbero secondo me mettendo le risposte multiple questo è l'ultimo con l'obelisco della misura dell'obelisco con le due ombre per vedere appunto il discorso della lunghezza del secondo e qui hanno detto più semplice chiaramente con scelta multipla l'hanno fatto generalmente tutti bene anche perché erano quarte secondarie e non era una domanda così particolarmente difficile per cui hanno fatto quello anche qui sempre nelle quarte secondarie avevano questo campo da pallavolo in cui dovevano calcolare l'area io l'ho dato anche in terza media l'hanno fatto bene perché comunque si trattava di calcolare l'area di un campo che aveva un perimetro di 54 e una delle misure che era 18 quindi quello è molto semplice anche per i bambini delle medie qui hanno detto più facile chiaramente dando quella multipla mettendo le varie opportunità quindi 108 sommava praticamente le due le due parti e basta e facevano errore di più questa nella quarta secondaria quella del semaforo risposta univola ragazzi della secondaria 62,5 quindi qui hanno detto per rendere più difficile si mette una risposta univoca con la percentuale che in quel caso sarebbe stato veramente più difficile e con questo direi che abbiamo sì quest'altro ultimo della quarta secondaria anche questa Nicole passeggia in una via di New York chissà perché con Stefano abbiamo scelto quello dei spara di Nicole che è anche sua figlia un pannello, vede un pannello pubblicitario con 77 gradi Fahrenheit quindi c'era da fare una conversione sostanzialmente e chiedeva di quanti gradi aumentava in Celsius se l'aumento era stato di 9 gradi Fahrenheit qui l'hanno risposta correttamente la maggior parte degli studenti anche se era un livello 13, un grado 13 livello 4 hanno detto però possiamo mettere a multipla 5 gradi la mettiamo per prima perché è quella giusta poi 20, poi 30, poi 25. Ok concludendo Sì, concludendo allora la cosa veramente bella è stata proprio quella di vedere gli studenti interessati a lavorare sui quesiti ma soprattutto a lavorare sui propri errori quindi questo deve farci capire di come l'insegnante debba rimanere sull'errore debba non lasciar cadere l'errore, lo debba affrontare in maniera non giudicante altrimenti si rischia veramente di bloccare tutto un processo di apprendimento soprattutto a partire dalla scuola primaria, è fondamentale questo e quindi ci siamo poi anche accorti che sia nella primaria che nelle due secondarie si è lavorato sui contenuti quindi sull'impostazione di questi quesiti con gli studenti che hanno appunto cercato il modo di semplificare o di complicare partendo proprio dalle loro difficoltà e soprattutto ci siamo anche basati sul discorso della comprensione del testo che è uno dei loro talloni d'Achille quindi soprattutto nei quesiti di matematica la non comprendere un testo chiaramente inficia tutte le varie soluzioni quindi hanno compreso che si può semplificare un quesito trasformandolo da una tipologia risposta univoca a una risposta multipla e se però non si scelgono bene i distrattori si rischia di complicarlo in realtà altra cosa importantissima è lavorare a piccoli gruppi in modo cooperativo come dicevamo prima fa sì che i ragazzi si sentano in qualche modo più portati anche a risolvere e sentano i quesiti invalsi in modo molto più congeniale quindi non abbiano questo senso di timore riverenziale questo è importante per gli studenti soprattutto in quest'ultimo periodo in cui purtroppo sono stati costretti a lavorare in maniera un po' distaccata da qualsiasi forma di cooperazione e poi vi lasciamo con la frase appunto che l'essenza della matematica è la sua libertà e grazie 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 grazie